...interviste come se facevamo Avatar, è da una settimana che stiamo facendo un'intervista dopo l'altra veramente con una certa reazione, dunque il corto io credo che è un formato che sta riprendendo molto piede grazie ovviamente all'internet, grazie ovviamente a Youtube, grazie ovviamente all'iPad, all'iPhone che la gente inizia a digerire cose diversamente, uno ha sempre paura, quando è arrivata la video uno credeva, quando è arrivata il cinema tutti dicevano nessuno andrà più al piano quando è arrivata la televisione nessuno andrà più al cinema, il cinema in Italia è vero ma nel resto del mondo no, nel resto del mondo no, per esempio c'è stato un aumento del 7% in America ai film, in Francia il cinema va sano, dunque Youtube, iPhone, iPad è soltanto un altro modo di vedere un altro strumento dove uno può guardare qualcosa e ovviamente vedere Lawrence of Arabia su un iPhone è difficile vedere il turno di notte per 20 minuti non avrai questo impatto, però si può vedere per 20 minuti e poi lo vedi in italiano anche e vederlo su questo attrezzatore è un altro tipo di visione, dunque l'ho corto a questo risorgimento grazie a tutte queste nuove tecnologie, anche economicamente grazie a tutti grazie a tutti